Ciao a tutti, in questo video vediamo le stranezze più inquietanti di ogni segno giudiacale. Quelle cose che si manifestano ogni tanto e sono veramente strane. La riete. Allora, la riete talvolta ha un pensiero fisso, il pensiero fisso della morte. Magari è in macchina, che viaggia in autostrada e si immagina degli incidenti che possono accaderli oppure delle cose in qualunque situazione negative. Insomma, è un po' ossessionato dall'idea della morte. Diciamo che una delle cose che teme di più la riete è proprio la morte, la paura di morire e si manifesta spesso attraverso pensieri ossessivi. Passiamo al segno del toro. Il toro ha, diciamo, la fissa di osservare i comportamenti delle persone. Ad esempio, spesso si piazza sui profili social quando una persona gli interessa e guarda, diciamo, inizia a controllare il profilo. È una tendenza un po' maniacale, diciamo, a osservare. Va a osservare tutte le, diciamo, le informazioni che riguardano una persona. Potremmo dire che ha una curiosità maniacale quando una persona gli interessa, diventa veramente maniacale nel reperire informazioni, guardare quello che fa, insomma, questa caratteristica del toro. Un'altra caratteristica, un altro segno zodiacale dei gemelli, diciamo, una caratteristica inquietante è che i gemelli sono bugiardi, sono bugiardi, spesso bugiardi seriali, figura doppia. I gemelli sono spesso bugiardi anche sofisticati. E, diciamo, sono talmente bravi ed abituati a mentire che spesso creano delle storie talmente credibili che le persone gli credono, però il gemello, il gemelli è bugiardo, è bugiardo, conclamato. Il cancro. Il cancro è, diciamo, incline a fare pazzie, a fare follie. Il cancro spesso si lascia andare quando incontra qualcuno che gli interessa. insomma, si lascia prendere, anche se può essere una persona iperlogica, però questa iperlogicità che spesso si manifesta non lo esime da lasciarsi andare a delle follie, delle follie per amore soprattutto, ma anche in altre situazioni della vita. Abbiamo poi il leone. Il leone è un po', da questo punto di vista, un po' come l'arieta. Nonostante sia un segno coraggioso, sotto sotto teme la morte. E questa paura di fatto non lo porta a vivere bene, perché, diciamo, è un po' un'ossessione e quindi che cerca di compensare attraverso atti di coraggio, ma sotto sotto teme fortemente la morte e anche talvolta un po' ipocondriaco teme la malattia. Abbiamo la vergine. La vergine, segno iperlogico per eccellenza, ha la caratteristica spesso di essere doppio giochista. Talvolta, diciamo, alterna istituzione a trasgressione, di giorno istituzionale, di notte trasgressiva. Si lascia andare, diciamo, ai pensieri più turpi e quindi ha questa caratteristica di, essendo molto spesso compressa nelle emotività e nelle situazioni, quando si lascia andare trasgredisce in modo molto forte. Abbiamo poi la bilancia. Abbiamo poi la bilancia. E la bilancia, possiamo dire, è un attore, un'attrice. Spesso la bilancia finge, cioè non mette in mostra quelle che sono le sue vere esigenze, la sua vera personalità, il suo vero modo di essere, ma tende a fingere, a dare una rappresentazione teatrale di se stessi. Ecco, potremmo dire che la bilancia è un attore, un vero attore. Abbiamo poi il segno dello scorpione, che da questo punto di vista potremmo dire che è il segno più contorto dello zodiaco. Ecco, è spesso vendicativo. Talvolta, diciamo, si ossessiona sulle persone, vuole a tutti i costi conquistarle, vuole a tutti i costi si diventa, diciamo, disposto a fare delle cose anche talvolta non buone per raggiungere i suoi obiettivi. Veniamo poi al segno del sagittario. Il sagittario è, diciamo, è un segno sensitivo per antonomasia. Riesce a percepire le emozioni delle persone che gli stanno attorno. Riesce a percepire il clima. E questo talvolta lo spaventa e lo porta a dubitare di se stesso. Spesso il sagittario è insicuro e quello che per altri potrebbe essere un dono, per il sagittario è un difetto. È un difetto perché si sente vulnerabile. Si sente vulnerabile e questo lo porta, diciamo, ad avere delle insicurezze. Il capricorno, che è un segno molto razionale, molto tende a perseguire gli obiettivi, diciamo, come il Machiavelli, ha come motto che il fine giustifica i mezzi, per cui talvolta può passare di sopra delle persone per raggiungere un obiettivo, perché la determinazione a raggiungere l'obiettivo è molto alta e questo comporta le volte che, appunto, si faccia portavoce e fautore di questo detto machiavellico, che è il fine giustifica i mezzi. Veniamo poi all'acquario. L'acquario teme le emozioni, ha una paura fottuta delle sue emozioni. Ha difficoltà a esternarle e questa paura, diciamo, allontana spesso delle persone. Non si fida di persone che in realtà potrebbero essere importanti per la sua vita. Diciamo che può perdere delle occasioni proprio per paura, soprattutto la paura legata alla gestione dell'emotività. Veniamo poi al segno dei pesci, che i pesci, diciamo, sono un segno che più degli altri tende ad essere un po' visionario, a fantasticare, a crearsi una sorta di realtà virtuale che lo allontana di fatto dalla realtà, quindi è il segno sognatore per eccellenza. Quindi talvolta visionario, talvolta quindi prende, anzi abbastanza spesso, lucciole per l'anterna. Ad esempio, pensa che una persona possa essere innamorata di lui quando di fatto non lo è, diciamo. Bene, queste sono le stranezze, diciamo, più inquietanti di ogni segno zodiacale. Lasciate i commenti qua sotto. Iscrivetevi al canale, così avrete l'opportunità di ricevere le notifiche dei prossimi video successivi. Però dovete attivare la campanella, quindi non soltanto iscrivetevi al canale, ma fate click sulla campanellina vicina al tasto iscriviti, in modo tale da ricevere le notifiche. Lasciate i commenti e se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. Ciao! Ciao!